Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato anche la registrazione. Grazie per la presenza e grazie per esserci. L'argomento di oggi, come avete visto e sento tutti presenti, è quello di effettuare trasformazioni di sistemi di riferimento anche utilizzando i grid di atti in ambiente GFOS. Condividerò con voi subito lo schermo in maniera da fare una prima introduzione. Dovreste, credo, vedere il mio schermo. Spero. Ok. Un attimo. La prima parte del job break di oggi introdurrò un po' l'argomento un attimo ai sistemi di riferimento in pillole, l'ho definito, quindi cercherò un po' di pregare le ragioni dei sottotitoli dei sistemi di riferimento veramente in pillole perché il tempo a disposizione è molto poco. Diciamo che per i job break di oggi la parte più complessa è stare dentro l'ora. parlo del mio membro, diciamo. Dopodiché diremo qualcosa sulla libreria Progei e come la libreria Progei gestisce i gridi atti e poi cercherò di far vedere qualche esempio pratico in maniera ovviamente, avendo a disposizione sempre solo un'ora, in maniera estremamente rapida, estremamente veloce. sono già preparato appunto un po' di trasformazioni già fatte però cercheremo appunto di vedere qualcosa. Io vi lascerò comunque, come dirò, alla fine un po' di materiale per riprendere gli argomenti e per provare a testare la stessa cosa magari anche per conto vostro. e ovviamente poi siamo sempre a disposizione anche a valle dell'ora. Quindi partiamo con quello che ho definito i coordine ICRS o secondo me il dedo i coordine intellectual system in pillole. A cosa servono i sistemi di coordinate? Questa slide non è un errore grafico c'è un punto e se io rappresento un punto dello spazio per volare nello spazio piano in questo caso di questa slide l'unico modo per definirlo in maniera corretta è andare a dare un sistema di coordinate definire un sistema di coordinate con un'origine da qualche parte e e e state continuando a vedere la presentazione lo confermate no scusate c'è mi chiederei di non ripresento ritorno al ok schermo ok dovevi scusate chiedo di quando entrate di non condividere anche voi lo schermo e forse facciamo un moda in tapper scusate l'introduzione e dicevo l'unico l'unico modo per definire un sistema di un punto dello spazio è appunto definire un sistema di riferimento i sistemi di coordinate servono apposta servono appunto a a questo cioè a definire un punto dello spazio in maniera univoca poi come vedremo il problema è che non esiste un solo sistema di riferimento in particolare in ambito GIS si vanno ad individuare quelle due macro famiglie di coordinate reference system che più o meno in tutti i software GIS trovate suddivise in questa modalità quindi voi utilizzate software GIS commerciali open source anche software non software GIS software per rilievo cartografico più o meno utilizzano tutti questa questa macro suddivisione fra sistemi di coordinate geografiche che vedete nella produzione italiana che sono definiti solo dal dato geografico quindi sostanzialmente da un elissoide dalla sua localizzazione dello spazio per fare degli esempi il i dati biografici i dati biodetici perdona Roma 40 o Montemario a seconda della definizione edi 50 UGS 74 ETRS 89 ETRS 2000 eccetera e poi ci sono un'altra macro famiglia che è quella dei sistemi di coordinate proiettate che sono appunto quelli invece definiti da un dato geodetico e dalla loro proiezione in particolare se noi andiamo a prendere il diciamo la fonte di tutto questo la trovate in questo link è il l'Igm se andate a prendere i sistemi di combinati geografici usati principalmente usati in Italia trovate questo elenco qua ciascun dato biogetico è associato a un codice PSG quello ufficiale dal 2011 è appunto l'ETRS 2000 che è la materializzazione del sistema europeo dell'ETRS 79 e la materializzazione italiana tramite appunto la rete dinamica nazionale del 2008 e possono essere utilizzati anche le TRS 79 le 50 e ovviamente il sistema di riferimento Roma 40 Montemario che storicamente era quello ufficiale che ancora oggi è considerato dai più quello ufficiale anche se appunto dal 2011 non è più il sistema ufficiale esiste anche che il VGS 84 per gli informatici sarebbe l'unico sistema di riferimento esistente in realtà l'Igm addirittura chiede che non venga utilizzato poi la richiesta dell'Igm viene smentita da altri organi pubblica amministrazioni esempio su tutti quello che conosco ma non è l'unico ovviamente è la protezione civile che chiede per esempio che la microzonazione sismica venga restituita in VGS 84 UTM 33 per tutta Italia tra l'altro quindi indipendentemente dal fuso di appartenenza tutti i piani di microzonazione sismica italiani vengono restituiti in VGS 84 UTM 33 Nord su richiesta della protezione civile quindi è una richiesta nazionale l'Igm dice non utilizzate il VGS 84 poi altri organi dicono utilizzate o anzi restituitemi dati in questo sistema di riferimento per dire che c'è ovviamente una certa confusione anche nell'ambito dei sistemi di riferimento anche nell'ambito normativo e ribadisco il VGS 84 cioè PSG 4326 è quello che è praticamente l'unico conosciuto da tutti i sistemi informatici insieme a quello forse alla proiezione cosiddetta di Google che poi non è la proiezione di Google è la proiezione pseudo-marcatore che è quella utilizzata per rappresentare la cartografia sulle map sui web GIS e le map web quindi questi due sono poi gli unici sistemi di riferimento conosciuti in ambito informatico se poi vogliamo vedere le diverse proiezioni esistono questi sistemi di riferimento tendenzialmente diciamo che quegli ufficiali dovrebbero essere i primi cinque a seconda delle regioni di appartenenza scendendone l'uno o l'altro poi non è detto che che si scelgano effettivamente questi molte regioni sono scelgono ancora come sistema di riferimento del TRS 39 sempre con proiezioni con le loro proiezioni per insomma per esempio ci sono poi regioni che non sono diciamo che sono un po' a cavallo tra i fusi penso al Veneto visto Eugenio e Rosario collegati ma so che abbiamo un po' dei contatti nel Veneto il Veneto è storicamente a cavallo tra fuso ovest e fuso est o tra UTM 32 e UTM 33 e quindi proprio per questa ragione una delle regioni che per prime diciamo ha spinto molto sul passaggio all'ETRF 2000 perché l'ETRF 2000 è disponibile anche con la proiezione cosiddetta della zona 12 quindi con il sistema di riferimento ufficiale per il Veneto per esempio del 7795 che appunto utilizza la materializzazione italiana il TRF 2000 RBN di via 8 definita dalla rettana di terza nel 2008 con proiezione sulla zona 12 per minimizzare le deformazioni interna dell'intera regione in realtà per ora ci interessa limitatamente quando parliamo poi intanto più nei grigliati ci interessa limitatamente il discorso delle proiezioni perché la trasformazione fra sistemi di riferimento la parte critica della trasformazione fra sistemi di riferimento è da un tra un datum ideodetico e l'altro dato ideodetico diciamo che il passaggio poi dal datum alla proiezione è definito dall'equazione matematica in atta su cui non ci sono dubbi quindi non è quella la parte del problema la parte del problema è il passaggio da un dato ideodetico all'altro lato ideodetico come vedremo ora e vabbè qua ho appunto un elenco già detto con qualche riferimento poi appunto la presentazione verrà condivideremo sui nostri canali quindi vi ho lasciato ho aggiunto un po' di link in cui trovare un po' di informazioni tra cui appunto il decreto ministeriale del decennio di 2011 anche con alcune con l'articolo 4 che come al solito che dice che cresce appunto la conversione dei dati territoriali prodotti espressi di riferimento ideodetico forma 40 50 2089 effettuato utilizzando i dati e le procedure messi gratuitamente a disposizione dalle amministrazioni dall'istituto geografico militare effettivamente il DGM mette a disposizione gratuitamente alle amministrazioni pubbliche i grigliati cosa è differente invece per tutti gli altri per chi non lavora in pubblica amministrazione anche se poi molto spesso il lavoro viene fatto per la pubblica amministrazione quindi di fatto quello che fa il professionista è chiedere alla pubblica amministrazione tutti gli altri quindi diciamo che è sempre un un gatto che si morde dalla cuore e poi dovrebbe essere forse varrebbe la pena modificare questa questo articolo forse poteva essere utilizzando i dati messi gratuitamente a disposizione dall'istituto senza parlare dell'amministrazione dall'istituto geografico militare questo come vedremo dopo avrebbe degli enormi vantaggi perché vedremo che effettuare la trasformazione usando i grigliati è ovviamente possibile anche utilizzando software solo software GFOS che ha degli inubi vantaggi che ha degli inubi vantaggi che cercheremo appunto su cui cercheremo di discutere però la parte iniziale diciamo predisporre del tutto è un po' complicato un po' complicato perché gli dati non sono disponibili quindi almeno in Italia i dati non sono disponibili e quindi è complesso diciamo l'inserimento dell'informazione all'interno del codice di software in particolare della libreria progetti che si occupa appunto della trasformazione tra sistemi occorre fare una una piccola parentesi tutto quanto abbiamo quanto abbiamo detto fino ad ora non considera l'altimetria in quanto normalmente in altimetria si vanno a considerare le cosiddette quattro-ortometriche e quattro-ortometriche o sul livello del mare diciamo che chiunque di noi ha sempre storicamente indipendentemente dalla professione dal fatto che magari si occupa di topografia quindi magari ha sentito parlare anche di quote ellissoidiche normalmente diciamo che fuori dalla professione si sente sempre parlare di quote sul livello del mare l'altezza del ciovino è definita in per fare un esempio nota a tutti o di qualsiasi monte di vostra conoscenza è definita in metri sul livello del mare non certo in metri sopra dell'ellissoide anche se poi in realtà per esempio utilizzando uno strumento di rinievo come potrebbe essere il dps ovviamente il risultato è una quota ellissoidica quindi ci sarebbe anche da discutere sulla trasformazione tra quote ellissoidiche e quattro-ortometriche le quattro-ortometriche la tematica come accennavo prima la tematica che vogliamo trattare oggi è proprio la trasformazione per ora consideriamo solo una trasformazione planimetrica appunto lasciamo perdere un attimo quella altimetrica tra datum diversi quindi uno stesso punto con due datumi diversi che ovviamente viene definito con numeri con coordinate differenti se tornate con la mente alla definizione iniziale planimetrica solo quindi addirittura bidimensionale bidimensionale sul foglio sulla slide è evidente che se io avessi spostato l'origine delle coordinate i valori di x e y che ho lasciato indicati in maniera generica verrebbero modificati la stessa cosa che avviene su un piano ovviamente avviene anche nello spazio avviene anche nelle trasmissioni il fatto di passare dal 2d al 3d non cambia cambia la complessità ma dal punto di vista logico non cambia nulla benissimo la libreria Progei definisce alcuni parametri che consentono di passare di trasformare i sistemi di riferimento con modalità diverse e sono sostanzialmente questi quindi va a definire i datum di tutti la libreria Progei contiene l'elenco di tutti i datum euretici mondiali dopodiché ci sono questi tre parametri in particolare oggi ragioneremo su questi due cioè su natgrids e tool che sono diverse che sono parametri diversi attraverso i quali la libreria Progei gestisce la trasformazione tra sistemi di riferimento in particolare in particolare normalmente di default la libreria Progei utilizza i parametri TUGES 84 per convertire i sistemi di riferimento quindi quando utilizzate TUGES ARGIS DVSIG GRASS il software scegliete voi il software che utilizzate Geomedia insomma un qualsiasi software o database Postis Oracle Spatial qualsiasi sistema di riferimento perché poi la libreria Progei che è una libreria open source che gestisce i sistemi di riferimento è sostanzialmente utilizzata da tutti i software GIS che siano essi open source anch'essi o che siano essi commerciali e questa libreria normalmente utilizza appunto i parametri TUGES 84 nel caso ad esempio dei parametri del sistema di riferimento Roma 40 i parametri sono questi questi sette parametri immagino abbiate già visto qualche volta nell'ultima versione di QGIS dalla 3.10 in poi ogni volta che si apre QGIS vi dice che parametri devo utilizzare e vi propone di default questi parametri che sono i parametri validi per tutta la penisola poi ci sono si può scegliere a seconda delle aree di default vi propone questi in realtà a seconda delle aree si possono scegliere anche altri parametri che magari definiscono meglio la trasformazione all'interno delle zone insulari per esempio i parametri della Sardegna e della Sicilia sono diversi e poi c'è un quarto parametro non ricordo forse valido che è meno preciso ma che è valido per tutta Italia compreso le zone di Italia e in generale questi parametri garantiscono delle accuratezze minore di 4 metri io ovviamente i test non sono esaustivi però posso dirvi che abbiamo fatto dei test e che vi farò vedere anche dopo su aree genovesi abbiamo errori anche inferiori a neto li vedremo dopo sono errori di 50-60 centimetri quindi particolarmente fortunati con gli amici di Vicenza lo scorso anno abbiamo fatto un po' di test proprio su tutti i punti della loro rete geodetica si trattava di non sbaglio alcune centinaia di punti e avevamo verificato un errore medio di circa uno scostamento medio di circa 2 metri recentemente cioè recentemente qualche mese fa abbiamo fatto per un rilievo la trasformazione abbiamo confrontato per un rilievo la trasformazione ho fatto a quei grigliati e senza grigliati sulla zona di Ventimiglia ovest la parte più a ovest Ventimiglia diciamo potrebbe essere credo un discorso analogo per tutta la parte a lungitudine forse parte più a ovest della Liguria e di nuovo la marroni scostamenti circa 2 metri quindi diciamo che mi garantisce quello che mi propone QGIS che mi suggerisce QGIS mi dice guarda la quadretta è inferiore a 4 metri poi magari in molti casi va anche meglio però diciamo che si generano delle imprecisioni utilizzando questi parametri perché questi parametri definiscono appunto gestiscono quella che è una rototrasazione e una variazione di scala unica da un datum alla scusate da un datum al VGS 74 essendo definiti sostanzialmente per tutti i datum geodetici in sostanza questi tramite questi parametri è anche poi possibile passare da un datum all'altro quindi in sostanza i software GIS sostanzialmente convertono ciascun datum in VGS 74 e poi dal VGS 74 nell'eventuale datum di arrivo se io volessi fare una trasformazione da Roma 40 a ED50 senza che io me ne accorga ovviamente il software GIS farebbe una trasformazione da Roma 40 a VGS 84 da VGS 84 a ED50 in pratica in questo modo il principio di funzionamento è un po' questo questa è la modalità standard è la modalità standard perché i parametri di VGS 84 sono stati calcolati proprio dalla libreria direi proprio anche dalla libreria progei e sono distribuiti gratuitamente sono diciamo frutto della libera conoscenza viene da dire e il principio dell'open source è un po' quello è la libera conoscenza e quindi sono stati integrati all'interno di software GIS di tutti i software GIS sostanzialmente sia open che commerciale sia free sia gratuiti che commerciali l'utilizzo dei grigliati garantisce invece precisioni diverse migliori e perché usa un approccio diverso cioè fa appunto delle interpolazioni basandosi su punti doppi quindi sfruttando la rete di metodizzazione sono calcolati sostanzialmente dei parametri di trasformazione su una griglia regolare con questa ampiezza e per ciascun punto io con un'interpolazione bilineare posso calcolare la diciamo lo scostamento sull'attitudine di l'attitudine l'attitudine di l'attitudine i grigliati in questo modo sono appunto quelli che se torniamo un secondo indietro vengono definiti da questo parametro quindi invece che utilizzare il parametro scusate GFOS di cui parliamo oggi appunto è quello di utilizzare non i parametri standard ma il parametro di parametri questo parametro il nard grig utilizzando questo parametro in sostanza do in pasto posso dare in pasto un file con la conversione questi file sono definiti in un formato standard internazionale che è stato sviluppato nel 95 dal modello canadese in realtà il file poi ha un formato che può essere un punto gsb o un punto gsa normalmente io ho sempre lavorato il gm distribuisce file gsb che sono ovviamente file binari un po' più più leggeri rispetto ai file hash però si potrebbero avere o file gsb o file .gsa che sta appunto per grid sheet binary o grid hash e sostanzialmente sono delle griglie raster composte da quattro bande una prima banda che fornisce un offset in latitudine un offset in longitudine un errore in latitudine e un errore in longitudine tant'è vero che io un file gsb lo posso tranquillamente aprire all'interno di un sottoregist e questo è un grigliato per una zona che utilizzeremo oggi vi farò che vi mostrerò è un grigliato nella zona di Genova e questa è la presentazione multicolore utilizzando gli offset in latitudine quindi la banda 1 in sostanza no utilizzando scusate una combinazione di banda 1 banda 2 e banda 3 in latitudine e sono software appunto scusate sono software sono file di tipo raster l'Igm distribuisce anche questo formato voi immagino avete già lavorato con l'immediato saprete che l'Igm distribuisce il formato gk1 e gk2 che sono sostanziali che possono per il privato costano più o meno a seconda che si scelga di utilizzare un intorno di 10 km da un punto igm o un intero foglio mi pare che questi costino sui 25 euro mentre un grigliato con una stazione di 600 km costa sui 45 euro mi pare per il privato differisco il gk1 e il gk2 sono formati non standard sono formati solo diciamo dell'Igm e differiscono semplicemente perché implementano un modello di eroide piuttosto che l'altro gli svantaggi del gk1 e gk2 quali sono? lo svantaggio principale è che non essendo un formato standard non sono integrati nella libreria progetti per esempio quindi possono di fatto essere utilizzati solo con software italiani software anche free penso a Convergo che è un software sviluppato dal CISIS che poi ha tutte le varie distinzioni di regione e regione quindi c'è Conver di Roma c'è Conver 2014 di Veneto e probabilmente altre regioni anche hanno la loro versione di Convergo però di fatto Convergo è un software nazionale gratuito non open source sviluppato dal CISIS che consente di utilizzare questi formati gk1 e gk2 verto è il software distribuito dal BGM e poi c'è credo anche Traspunto che gestisce lo svantaggio però grosso il vantaggio è forse l'unica ragione per cui direi può essere utile utilizzarli e perché consentono anche di fare delle trasformazioni tra quote listoidiche e quote altimetriche e quote ortometriche lo svantaggio è che essendo un formato standard non sono integrati all'interno del software GIS invece grigliati nel TV2 che per fortuna vengono distribuiti dal BGM consentono essendo uno standard internazionale sono supportati anche dalla libreria Progei e quindi sono supportati dai software GIS ora io vi mostrerò come vengono supportati da TGIS dalla libreria GR2GR eventualmente da PostGIS ma immagino che la stessa che la stessa cosa si possa fare con l'alternativa e sono venduti per aree di interesse ovviamente tutti questi dalle pubblicamentazioni sono forniti in maniera gratuita va da sé i grigliati nel TV2 consentono solo conversioni planimetriche la problematica è legata alle conversioni altilistiche almeno in Italia mancano infatti i file Geoil Grids che sostanzialmente sarebbero se torniamo un po' di slide indietro non ricordo male alla libreria Progei della slide 11 i parametri utilizzati nella libreria Progei per gestire i parametri utilizzati nella libreria Progei per gestire i sistemi le trasformazioni tra sistemi di riferimento c'è il parametro 2GS84 c'è il parametro navgrids perdono uso il mouse quindi ogni tanto è troppo sensibile e c'è questo parametro Geoil Grids che appunto sono i file DTX che potrebbero essere utilizzati troppo troppo non sono disponibili per non sono disponibili i file per fare le trasformazioni fra tranquillamente potrebbero essere utilizzati per trasformazioni tra sistemi dato in quote emisoidiche per convertirlo in quote altrimenti che è un po' c'era questo però resta appunto un problema aperto io ho già speso mezz'ora vi ho già direi annoiato abbastanza quanto basta diciamo però era veramente necessario come definivo all'inizio ho dato in pillole i i in corte di qualche concetto veramente base su un corte di reference system giusto per capirci per parlare tutti nel stesso linguaggio ora passerei appunto alcuni test pratici avendo a disposizione veramente poco tempo cercherò di farvene vedere alcuni dopodiché ho creato un po' di documentazione su questo riposito di github poi ve lo fornisco magari poi lo scrivo anche sulla chat in cui quindi vi rimane qualcosa perché ovviamente far tutto in diretta sarebbe complicato nella mezz'ora che ci rimane in particolare vi allora intanto apro QGIS ok intanto verifico non ci sono ancora apro QGIS se avete intanto mentre attendiamo questi istanti che parta QGIS se avete delle domande scrivete pure in gianto intervendete pure anche col microfono sicuramente ci sarà stato qualcosa di poco chiaro da me definito sì ciao Roberto sono Francesco grazie intanto per l'introduzione scusa vado purtroppo molto diretta a una domanda in società privata insomma volevo capire se questi grigliati sono utilizzabili per fini commerciali allora assolutamente sì nel senso che i grigliati vengono venduti dall'IGM quindi il il privato mi senti? mi senti? non ti sento più pronto pronto gli altri mi sentono mi sentite? prova si Roby ti si sente io personalmente ti sento grazie Francesco non mi senti più invece anche Mauro mi sente mi spiace rispondo a tutti però mi spiace che proprio chi ha fatto la domanda non riesca a sentire però temo sia a questo punto un problema non personale va del suo io provo a rispondere c'è la registrazione alla peggio quindi Francesco sentirai la risposta in registrazione nel massimo sì sono usabili a fini commerciali assolutamente cioè io se ho un grigliato dall'IGM posso acquistare i grigliati posso fare le conversioni e posso utilizzarli assolutamente dopodiché se il lavoro che sto facendo è per una pubblica amministrazione un'alternativa che ho rispetto ad acquistare i grigliati è chiederlo alla pubblica amministrazione io sto facendo un lavoro per i grigliati che utilizzerò in questa esercitazione me li ha forniti il comune di Genova nell'ambito di un lavoro che noi stiamo facendo per conto del comune di Genova quindi siccome noi dobbiamo utilizzare i grigliati per convertire i dati ho chiesto che mi fornissero i grigliati la risposta molto banale è questa però se invece il lavoro che facesse io facesse lo stesso lavoro non per una pubblica amministrazione ma per un privato che mi chiede comunque un rilievo con precisioni elevate quindi mi servisse i grigliati dovrei acquistarmi semplicemente quindi questo per rispondere a Francesco che spero mi abbia sentito se no ho risposto agli altri come dico sempre le domande sono sono sempre utili perché la domanda di uno è utile anche per gli altri quindi eventualmente comunque credo che fosse una domanda anche una curiosità anche di altri andiamo ho aperto QGIS e in particolare vado ad aprire un progetto che ho metterò anche a disposizione se appena finito metterò a disposizione un geopackage con un po' di dati ovviamente i grigliati non li posso mettere a disposizione per quanto ho detto finora per quanto ho detto nella risposta a Francesco però invece i dati giusto per fare dei confronti per vedere o altro i dati utilizzati li metterò a disposizione allora cerco di magari metto sotto un giusto per farvi vedere dove siamo siamo nell'entrottare a Genovelli siamo vicino a casa mia diciamo ma semplicemente perché avevamo dati avevamo grigliati anche i grigliati G formato GK2 di quest'area qua siamo sotto uno sfondo di pre-street map giusto per per visualizzare che siamo in Italia che siamo nella zona quindi siamo nell'entrottare a Genovese Alta Val Polcevera Anzi Valverde e allora quello che ho raccolto in questo progetto appunto vi metterò a disposizione sul sul reposito di Github sono dei punti che questi punti che vedete sono punti che ho scaricato sono i vertici di raffettimento di regione Liguria ho unito assieme quelli a 3 km e a 7 metri quindi sono dati pubblici scaricabili li ho semplicemente sono dati presenti per tutta la regione li ho semplicemente ritagliati in un intorno di 10 km quindi ho creato un buffer di 10 km dal punto IGM di Cravaso al punto 82082642 per cui avevamo a disposizione un grigliato un grigliato in formato GK2 che ci ha fornito non so se abbiamo acquistini in realtà è stato un grigliato Tiziano mio collega ma probabilmente ci è stato fornito o l'abbiamo acquistato ci è stato fornito dal nostro committente comunque è stato acquistato in quel caso era un committente privato per cui abbiamo fatto il rilievo e quindi perché ho fatto questa estrazione di dati perché questi punti qua questi punti che ho chiamato punti test io li ho scaricati dal portale di Regione Liguria nel sistema di riferimento Orvacolanta Montemario con proiezioni vabbè Gauss-Baga ripeto le proiezioni non sono sostanzialmente un problema i grigliati o i parametri Tuggen-S64 come dicevo prima gestiscono le trasformazioni da datum a datum quindi questi punti che io ho definito punti test 3003 sono i punti appunto scaricati dal portale della Regione Liguria semplicemente uniti assieme ho unito vertici di raffettamento a 7 km vertici di raffettamento a 3 km e e li ho ritagliati quelli che comparivano all'interno di questo buffer dopodiché ho aperto Convergo e mi sono aperto Convergo l'ho già fatto questo non ve lo mostrerò perché tanto non è di interesse Convergo gli ho dato in pasto e grigliato GK2 posso anche mostrarlo tanto abbastanza veloce Convergo lo trovate un software gratuito non è open source ma gratuito distribuito da CIS e Convergo ha diverse modalità di utilizzo una delle modalità di utilizzo di Convergo è quella di utilizzare di chiedere di utilizzare solo i grigliati quindi attenzione perché Convergo fa comunque le trasformazioni di riferimento può usare diverse modalità se voglio essere certo che utilizzi i grigliati devo selezionare l'opzione solo grigliati devo darli i grigliati io li ho inseriti per terra per come un pc e dopodiché sulla base dei grigliati io posso fare una trasformazione fra un sistema e l'altro quindi posso tranquillamente fare trasformazioni e quello che ho fatto è stato dare in passo lo shapefile con questi punti di Roma40 e chiedergli di convertirli in coordinate UTM e TRS2000 senza fare variazioni di quota perché la quota era già 4 di quei punti qualora ci sia non so nemmeno se sono punti 2D o 3D ci fosse comunque già una quota ortomotica quindi in quel caso non mi serviva a fare come molto spesso accade a meno che non si tratti di un rilievo questa è poi la problematica principale come molto spesso accade la quota potrebbe essere già una quota ortometrica e quindi ho effettuato la trasformazione con convergo e il risultato della trasformazione con convergo è questo file punti test 3003 con convergo diciamo in automatico mi assegna lo stesso nome di partenza è un è un suffisso U00 sta per le terafe 2000 e 32 ovviamente per il confuso per il questi dati quindi i punti in 3003 e i punti test 3003 usando convergo se riguardo a questa questa scala sono assolutamente concorderete che sono non so cosa riuscite a vedere dal mio schermo ma vi assicuro poi questi dati sono tutti in un geopackage sono assolutamente coincidenti sembrano assolutamente coincidenti se io vado a fare uno zoom sui punti però mi accorgo abbiamo un punto in particolare mi accorgo che questi punti non sono corrispondenti non sono esattamente corrispondenti in questo caso sono anche particolarmente fortunato cioè particolarmente poi dipende cosa intende per fortunato nel senso che se faccio una misurazione lineare tra l'uno e l'altro vedo che sono circa ora da qua non è al massimo sono circa 50 centimetri se voglio fare qualcosa di meglio mi apro il processing di QGIS vado a utilizzare c'è un comando che distanza dal nodo più vicino lo facciamo per punti si può fare per punti per linee io gli dico di calcolarmi la distanza tra ciascun vertice del mio file di punti test 3003 e ciascun vertice di punti test 3003 convertito con convergo unità di misura in metri questo comando del processing mi calcola le distanze ora non salva nemmeno risultati il dato lo salva il file temporaneo se io mi apro il mio file temporaneo ho tutto il diciamo ho la tabella attributi del dato di partenza e in fondo mi trovo la distanza ciascun punto la distanza dal punto più vicino ora vedete che siamo dell'ordine 50 e 50 anche qualcosa meno e 60 centimetri circa questi sono distanze in metri se voglio vediamo una statistica facciamo per essere ancora più precisi distanza dal centro è come mi ha chiamato il risultato e vi chiedo di fare una statistica di abdist 22 valori mi interessa la media circa come media l'errore medio tra 56 centimetri poco più di 56 facciamo anche 60 centimetri sono ripeto fortunato se avessi fatto la stessa prova come vi dicevo prima su 20 miglia a 20 miglia o l'avessi fatto a Vicenza sarei dell'ordine di 2 metri circa di errore quindi dipende un po' dall'area potrebbe essere anche superiore ai 2 metri c'è uno scostamento ovviamente piccola premessa fondamentale questo scostamento mi interessa o non mi interessa dipende dalla scala del mio dato se stiamo analizzando un dato già con scala una 5000 questo errore è inferiore al dato all'errore di graficismo una 10.000 ancora di più una 10.000 è inferiore all'errore del graficismo anche anche un errore maggiore 2 metri di errore di graficismo ci sono su 10.000 un metro sul 5000 quindi dipende dalla scala del dato se questo scostamento forse a me è chiaro forse l'ho dato un po' da scontato questo scostamento è dovuto al fatto che la riproiezione al volo che fa UGIS che fa un qualsiasi software UGIS non tiene conto dei grigliati quindi non tenendo conto dei grigliati si vede bene l'errore tra l'errore che non è un errore cioè che la trasformazione in realtà la trasformazione corretta è questa quella fatta con convergo il problema è che siccome su UGIS io non vedo non utilizzo UGIS software UGIS non utilizzo i grigliati per fare la trasformazione io vedo i punti non coincidenti ma è corretto che i punti non siano coincidenti lo so che questa questo è un po' il punto più delicato da essere compreso ma quello che che in realtà voglio io quando faccio una trasformazione usando i grigliati è quello che vorrò quando ora proveremo a fare la stessa trasformazione usando i grigliati facendola con UGIS e la trasformazione giusta dovrà finire sovrapposta al dato di al dato di convergo non al dato originale perché questo scostamento è appunto dovuto al fatto che nel passaggio da un passaggio da un sistema e l'altro fatto con la riparazione al volo di QGIS non si utilizzano i grigliati dopodiché se io dicessi cosa che ovviamente posso fare che questo che il codice che il sistema di riferimento di questo punto non è esattamente che il sistema di riferimento non è quello standard ma è quello che utilizza i grigliati vedrai anche la perfetta sovrapposizione anche in ambito di expert quindi lo posso fare anche a livello di visualizzazione dipende poi ripeto se mi interessa la visualizzazione o se mi interessa il dato corretto nel sistema nel sistema d'arrivo veniamo appunto a come gestire la trasformazione velocemente a come gestire la trasformazione in ambito QGIS allora i passaggi da fare sono sostanzialmente tre io ve li ho elencati scusate il passaggio da una cosa ve li ho elencati nel appunto poi mi avrò tutti i riferimenti in in questo in questo file in questo reposito di github allora i passaggi da fare sono questi tre prima di tutto è necessario copiare i file con i grigliati nella cartella una cartella di sistema di QGIS quindi i file di grigliati ntv2 li ho che mi ha passato appunto in questo caso che avevo a disposizione per un'area più estesa che ovviamente comprende i punti del mio caso test per tutta l'area della provincia di Genova direi li ho inseriti all'interno della libreria di QGIS dove ho installato QGIS e in particolare dentro la cartella share QGIS quindi possiamo andarci per mostrarvelo in C dentro lo sgeo ho installato QGIS e dentro sgeo se non l'avete installato con lo sgeo la vostra cartella si chiamerà QGIS qualcosa dentro la cartella QGIS ci sarà la cartella share e dentro la cartella share c'è la cartella proj e qua dentro io ho inserito i gribbiati se vado sotto vedete che ci sono tutta una serie di file GSB già presenti che non ho inserito io che sono i file GSB che sono invece distribuiti gratuitamente ed essendo distribuiti gratuitamente sono già inseriti dentro la libreria vedete che non ce n'è pochi giro per il mondo un po' di file GSB vengono distribuiti quindi in America mi pare vengono distribuiti quindi se 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 li avessi già avuti se l'Igm mettesse a disposizione un Italy punto GSB questi file il file Italy punto GSB potrebbe essere incluso all'interno di questa libreria e potrebbe a quel punto non sarebbero necessari questi tre spassi che che vi sto mostrando e automaticamente la libreria progetti gestirebbero la personazione che gli altri questo è ecco perché non tanto per pagare 25-45 euro l'euro che di per sé non è il problema non è solo quello il problema dopodiché dalla libreria progetti questo passaggio non era necessario nelle precedenti versioni di QGIS ma dal passaggio della libreria progetti 6 che l'attuale libreria progetti è necessario è stato necessario inserire due righe all'interno del anzi una riga in realtà più riga secondo le trasformazioni che voglio fare all'interno di un file sempre contenuto all'interno di questa libreria di questa cartella è un file è un file SQLite che si chiama progett.db e ho inserito questa riga qua in sostanza ho definito un i parametri della trasformazione utilizzando appunto file gsb gli ho dato in pasto questo file qua che lui ovviamente va a cercarsi in quella cartella quindi passaggio 1 ho copiato i file passaggio 2 ho detto guarda che devo utilizzare il file gsb il passaggio 3 devo fare una cosa simile ho definito dalle impostazioni di QGIS c'è l'opzione proiezioni personalizzate se lo trovate anche tutto anche sul manuale di QGIS l'abbiamo aggiunto noi proprio l'anno scorso e ho definito un nuovo sistema di riferimento che tiene conto dei grigliati per farlo lo possiamo fare in diretta ora questo l'ho già definito ma ne facciamo un altro è molto semplice si deve assegnare un nome noi definiamo 3003 no scusate non ne definisco di nuovo ora stavo cambiando il nome di quello già definito ora se io faccio più definisco il 3003 geobreak vado a copiarmi i parametri da un sistema già esistente io so che per esempio il sistema voglio fare utilizzare i parametri che convertano da Montemario a etrf2000 perché perché i dati in questo caso i dati di regione Liguria che ho scaricato da regione Liguria erano scaricati in Roma 40 quindi voglio convertirli correttamente voglio replicare la stessa cosa che ho fatto con Convergo quindi prendo i parametri da Montemario gli dico di guardare il formato proj in questo caso non contiene in passato conteneva già nel parametri tu già stato da 4 che però dalla libreria proj in poi sono contenuti nell'altro file nel file proj nel file proj punto db quindi qua dentro non sono definiti qua dentro io vado a dirgli di usare nadgrids e devo scrivere il nome del file che voglio utilizzare il nome del file a memoria non me lo ricordo io voglio fare una configurazione tra Roma 40 e etrf quindi devo usare questo file qua l'r40 f00 diciamo che è sempre prima il sistema di partenza e poi quello d'arrivo potrei fare anche la cosa apposta però è più comodo farlo così quindi faccio un nome copio e qua dentro definisco punto il sd lui sa ovviamente non è necessario in questo caso indicare il percorso lui sa dove andarsene a cercare a questo punto faccio ok ora se io voglio trasformare questi punti che sono nel sistema Roma 40 in in sistema con psg 7791 quindi etrf 2000 utm 32 nord allora se io utilizzo la versione standard di QG se faccio esporta salvo elementi come e specifico il nuovo sistema di riferimento come immagino voi sappiate quindi se io dico 7791 poi specifico dove salvarmelo faccio ma c'è il file e me lo salvo da qualche parte e lo chiamo punti test 7791 QGIS no grigliati in questo caso io sto facendo perché non sto usando i grigliati perché di fatto il sistema di partenza era 3003 il sistema con cui sono definiti questi dati il sistema d'arrivo è sempre 6991 lui utilizza QGIS utilizza i parametri standard quindi tu vuoi già il 64 e se infatti provo a farlo i dati sono sovrapposti a quelli in 3003 non vedo la differenza ora per fare la trasformazione utilizzando i grigliati cosa devo fare semplicemente gli dico che il dato di partenza non è nel sistema 3003 ma è nel sistema che utilizza i grigliati quindi imposto il sistema di riferimento del layer e gli dico di non usare il 3003 ma di usare quello che abbiamo o 3003 gli ATG quello che avevo già definito oppure non è tra quelli usati di recente il 3003 Joe Breath quello che abbiamo utilizzato poco fa quindi in sostanza lui a questo punto mi dice che parametri di conversione devo utilizzare e mi dice la curatessa è sconosciuta perché non l'ho definita ma vedete che nei parametri di conversione compare il file di sv perché lo ha inserito in quel file appunto proj.db automaticamente il il punto si è spostato sovrapposto vedete che quello che vi dicevo già prima ora è perfettamente sovrapposto ai dati trasformati con convergo avete già capito direi che se ora io faccio la stessa trasformazione di 7791 otterrei posso rifarla ma non sarebbe nulla di diverso rispetto a quello che avevo fatto prima otterrei quello che ho fatto ieri sera ovvero i punti test e che vi metterò a disposizione punti test 7791 poi gli snapdrys che sono a sua volta sovrapposti a meno di errori submillimetrici quindi sotto il millimetro sovrapposti al file convertito quindi e sto vedendo tutto facendo la riproviazione in 2003 il sistema di riferimento del progetto al 2003 io ho convertito tutto però siccome li ho convertiti tutti questi nantgrids l'ho convertito ieri usando i grigliati questo file di fatto questo nuovo questo file ora utilizza il sistema di riferimento i grigliati utilizza quel parametro per far corregge corregge gli errori di trasformazione e quindi finalmente vedo tutto sovrapposto quindi la stessa cosa la posso fare a per convertire il dato b per vedere i dati corretti uno sovrapposto all'altro ovviamente per vedere i dati a queste precisioni ripeto stiamo parlando di precisioni che almeno submetriche corrette riesco ad avere la stessa sola posizione rispondo alla domanda di Mauro Bettella passaggio zero fare una copia di progeniali.db sì va bene può essere un sì per non corrompere una buona diciamo una dose di prudenza io devo essere sincero l'ho saltato passaggio zero però non è ovviamente può essere una buona cosa in realtà allora tenete presente quando lanciate un'istruzione che trovate su Vtab è un'istruzione che inserisce una linea un nuovo un nuovo record in una tabella se va in porto vi inserisce un nuovo record che poi potete utilizzare o non utilizzare se non va in porto per qualche ragione fa un errore comunque non vi dovrebbe confrontare nulla quindi non dovrebbe essere così pericoloso quindi il passaggio zero se volete fare ovviamente può essere una buona cosa ma si può anche saltare quindi per rispondere a Mauro molto liberamente e l'ultimissima cosa ve l'ho lasciata anche sul repository Vtab che ora ovviamente vi vado a condividere e dentro quale appunto magari vi metto appunto a disposizione i file convertiti ho creato un geopackage che ha all'interno il file originale punti test 2003 e il file convertito con le diverse modalità in maniera tale che poi voi possiate testare e capire la differenza tra l'uno e l'altro purtroppo come dicevo prima non posso mettere a disposizione il grigliato il grigliato UGM perché non è ovviamente non è nemmeno di nostra proprietà anche lo fosse non credo che sia consentito comprarlo e poi mettere a disposizione che sia una violazione della licenza se no uno potrebbe come acquistarli tutti e poi mettere a disposizione della comunità l'unica alternativa che si può fare che per esempio è un tentativo che ha fatto l'ingegnere Sperlati della provincia dell'agrigenza che è passabile del sito della provincia dell'agrigenza è calcolarsi dei grigliati lui l'ha fatto con traspunto un'idea che ho in testa io è di farlo utilizzando VertOnline Utilizzare i grigliati quindi provare a costruirsi un grigliato utilizzando diciamo utilizzando per fare trasformazioni VertOnline quindi trasformazioni corrette e che hanno già all'interno i grigliati per tutta Italia e quindi crearsi il proprio grigliato cosa che secondo me si potrebbe fare tra l'altro l'ingegnere Sperlati ha messo a disposizione tutta la lista dei ripastaggi lui li ha fatti con Argist ma sono del tutto replicabili con QGIS e quindi l'idea con il cassetto è quella di creare crearsi dei grigliati free open source che appunto ovviamente messi anche a disposizione della comunità che però comunque non sarebbero quelli ufficiali però essendo ricavati sostanzialmente delle sostanziali potrebbero essere probabilmente analoghi a quelli ufficiali però proprio appunto liberamente distribuiti l'ultimi due cose che volevo far vedere poi ovviamente rispondo alle varie domande che stanno vedendo e eventualmente anche domande a voce intanto rispondo alla domanda di Valeria che mi chiede se può caricare anche gli dati creati per la RER quindi per la Romagna assolutamente sì sempre nella sua cartella assolutamente sì io posso tranquillamente come vi ho fatto vedere prima in quella cartella di QGIS ho anche altri grigliati quindi poi si tratta di andare a definire quando definito il sistema di riferimento di dire quale grigliato utilizzare vi mostro velocissimamente ancora prima di quello che volevo fare che appunto su QGIS voi potete aprire i grigliati quando avete un grigliato lo potete aprire quindi se io prendo questo grigliato R40 F00 e lo importo in QGIS da questo grigliato aprendolo ora in realtà non è che veda grandissime informazioni a parte il colore però l'informazione molto utile che vedo ancora una misura attivata è l'estensione dell'area su cui sto facendo su cui vale il grigliato quindi mi rendo conto se la trasformazione che si è grigliato copre la trasformazione che devo fare o meno quindi per rispondere completamente alla domanda di Valeria si infericeli pure in quella cartella lì poi se te li apri anche se te li apri con QGIS vedi l'estensione e guardando l'estensione l'unica cosa a cui fare attenzione è che il dato da convertire sia all'interno del grigliato se io dovessi convertire un dato in provincia di Cuneo è evidente che questo grigliato non mi servirebbe io potrei anche darvi un pasto a QGIS ma otterrei la stessa trasformazione anzi forse peggiore perché a quel punto non utilizzerebbe i parametri di Turingia 74 quindi attenzione solo a verificare l'estensione del grigliato e verificare che la trasformazione che state facendo sia all'interno della grigliato le ultime due cose che volevo mostrarvi una molto rapida è che la stessa cosa anche se ho messo tutto diciamo online è che la stessa cosa si può fare utilizzando lo so che è una che la linea di comando non è al massimo ma utilizzando la libreria OGR la libreria OGR è una libreria che consente di fare delle trasformazioni fra sistemi tra diversi formati e fra sistemi di riferimento ad esempio con un'istruzione di questo tipo qua io posso lanciare lanciare dalla shell di Windows la libreria anche questa è installata assieme a QGIS quindi la trovate questa libreria la trovate dentro OGR OGR bin quindi se mi sposto nella cartella o QGIS quello che è a seconda di come avete fatto QGIS bin qua dentro ho a disposizione anche la libreria OGR OGR tu OGR punto egre la vede appunto ho semplicemente mosso la la breccia in alto e me la trova da solo diciamo scrivendo O OG forse me la trovate subito la libreria OGR OGR gli posso dare queste istruzioni qua in questo queste istruzioni qua ad esempio convertono un file shape in input in un file shape in output quindi se devo specificare dove è il file in input dove è il file in output il meno F sta per il formato di output quindi posso convertire anche in altri formati il package gli post l'oracle eccetera eccetera e poi gli do come parametri il sistema di riferimento di partenza e il sistema di riferimento di arrivo in questo caso utilizzerai i dati standard se invece il sistema di riferimento di partenza io lo vado a definire in maniera completa con quei parametri che prima con QGIS abbiamo visto in chiaro quindi potete copiare pari pari da QGIS e esattamente come abbiamo fatto prima aggiungerci il parametro in adgrid questa volta l'unica accortezza l'unica differenza su cui te la dico perché mi sono come dire confrontate un po' la documentazione non è chiarissima gli devo dare il percorso al file quindi in questo caso siccome sono nella libreria bin torno indietro di un questo vi trovate tutto online e questo torno indietro di una cartella e poi vado a cercarmelo dentro share dentro proj e gli do il percorso al file a quegli altri poi vado avanti con gli altri parametri e l'ordine dei parametri è indifferente quindi potevo mettere non so perché l'ho messo in mezzo se non alla fine avrei tutto mettere praticamente alla fine lo converto in 7791 però il dato di partenza lui parte come partenza usa i grigliati potrei fare una cosa inversa cioè potrei fare meno SRSS 3003 e come TSRS cioè sistema di riferimento di arrivo definire i parametri del 7791 col grigliato F00 alla 40 e direi che potrebbe funzionare in maniera del tutto analoga invertendo le due cose io vi lascio subito il link a a questo a questo così che l'avevo provesso poi finisce che non e quindi ve lo ve lo inoltro a questo link aggiungerò come vi dicevo il file trasformati così per i porti capire subito per testare verificare quali sono le differenze o altro ed eventualmente è un modo anche che può essere anche che aggiunga sempre a questo su questo repository delle ulteriori test o e altro ho sporato di alcuni minuti quindi avevo premesso che era molto complicato restare dentro dentro l'ora e direi spazio veramente alle domande quindi se volete aprite pure il microfono magari lascio ancora un attimo la condivisione non si armon perché può essere utile rispondere mostrando qualcosa o scrivete in chat oppure se volete intervenire anche a voce ben volentieri se non vi ho ancora completamente addormentato ammorbato con concetti che mi rendo conto non sono semplici in attesa di eventuali domande il grosso qual è il grosso vantaggio uno potrebbe dire vabbè ma fatto così uso convergo ed è uguale perché complicarmi la vita con verissimo ecco tutto quello che però io vi ho mostrato ora se io devo fare la conversione di un file vi do anche ragione avendo a disposizione un file di k1 di k2 uso convergo se invece che dover convertire un file devo convertire un insieme di file pensate a un database intero il fatto di poter usare i dati dentro un software per source mi consente di farmi degli script di automatizzare la procedura gli amici di vicenda che sono in chat fanno che l'anno scorso noi abbiamo fatto così per convertire i dati da abbiamo inserito questi parametri dentro il database post-list cosa che ovviamente è possibile perché anche il database post-list si apposta a chi appoggiare gli miei progetti e siamo riusciti però da solo a livello di test ma a convertire un intero database da dal sistema in origine di partenti di arrivo utilizzando però i migliati utilizzando la precisione più elevata quindi ecco questo questo l'avevo un po' trascurato il grosso vantaggio è l'automatizzazione della procedura l'automatizzazione della procedura soprattutto anche il non dover passare necessariamente dallo shapefile perché diciamo che Convergo verso online hanno un grosso limite accettano file di testo shapefile e pochi altri formati tutti i formati che necessariamente vanno a perdere delle informazioni ora chi lavora in ambito GIS sa benissimo che non c'è solo la componente geometrica ma c'è anche la componente semantica se io la componente semantica per convertire il dato bene me la devo corrompere anche solo minimamente questo mi spesso e volentieri mi crea dei problemi abbastanza grossi ecco Mauro grazie Mauro sì dopo di che sono altre domande sì ovviamente vi ricordo che il prossimo appuntamento è da due settimane con parleremo di dati specialitari dentro QGIS quindi sempre abito GIS ma cambiamo un po' argomento benissimo direi che l'ora lo sforamento dell'ora non aiuta alle domande benissimo vi ringrazio tutti per l'attenzione per aver partecipato per avermi sopportato questa tematica interessante dicimassimo ma anche discretamente complicata e noiosa per certi versi è molto interessante in realtà molto molto potente ovviamente restiamo sì non è non è non è semplice ci sono tematiche mi rendo conto non non semplicissime appunto dovute per necessità raccontate un po' il pillole per restare l'ora però spero di avervi dato qualche strumento anche per poi riuscire ad approfondire eventualmente in autonomia sì grazie a tutti Grazie a tutti.